Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Teleitalia. Fratelli d'Italia lancia un'azione legale, una denuncia contro il governo che deve pagare i danni ai ristoratori. Quindi Fratelli d'Italia denuncerà il governo italiano con un'azione legale tramite i suoi avvocati perché il governo deve risarcire i ristoratori penalizzati dai provvedimenti varati dal governo durante la pandemia. Lo annuncia il partito guidato da Giorgia Meloni oggi nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio cui hanno partecipato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Francesco Lollobrigida e i parlamentari Paolo Trancassini, Salvatore Cajata, Marco Osnado e Riccardo Zucconi. Io sono d'accordo ma non sono solo i ristoratori che sono stati penalizzati, ci sono i bar, le cantine, le discoteche, i cinema, i negozi di scarpe, i negozi d'abbigliamento. Insomma il risarcimento andrebbe dato a tutte le attività. Certo ovviamente i ristoratori apri a Natale, poi non apri più, avevano comprato le scorte, avevano messo i locali in sicurezza, ma i locali in sicurezza li hanno messi anche quelli che hanno altri tipi di attività. Per Trancassini dice siamo di fronte a una clamorosa penalizzazione della filiera della ristorazione. Il Comitato Tecnico Scientifico non ha mai detto che i ristoranti sono sicuri a pranzo e non a cena, è una barzelletta. Sono d'accordo con te caro Trancassini però il Comitato Tecnico Scientifico, voluto dal governo, è un organo consultore, cioè è un organo che dà dei consigli non vincolanti, nel senso che è l'autorità politica che poi decide, l'organo decisore è l'autorità politica. Il CTS è stato creato dal governo per dargli dei consigli, consigli che possono essere ascoltati o no. Non c'è un obbligo, dobbiamo dire le cose come stanno, parliamoci chiaramente. Poiché Conte non abbia ascoltato il Comitato Tecnico Scientifico voluto da lui, è una barzelletta, siamo d'accordo, però non era obbligato e non è obbligato ad ascoltare gli scienziati. Trancassini dice abbiamo visto che chiudere i ristoranti non è servito a niente e il cashback è stata una contraddizione che sfiora la persecuzione. Abbiamo per questo lanciato un'email. Da oggi, spiega il deputato di Fratelli d'Italia, i nostri coordinamenti provinciali e regionali chiederanno alle aziende interessate di dare la delega ai nostri legali e insieme a noi intentare questa azione di risarcimento danni. Tutta l'attività normativa del governo ha provocato un danno che va ristorato e risarcito, più che ristorato risarcito. Qual è la differenza tra il ristoro e il risarcimento? Qui è una questione interessante. Il risarcimento deve essere proporzionale al danno. Il risarcimento va a estinguere il danno. Giusto? Assicurazione, la macchina tamponata da quello di dietro, c'è risarcimento del danno. Il risarcimento è la completa soddisfazione di quello che è stato il danno. Il ristoro, parola ricercata dal Giuseppe che lui parla bene all'italiano, il ristoro non è un risarcimento. Il ristoro è un qualcosa che io ti do per aiutarti a mangiare, a vivere. Il ristoro è un qualcosa che momentaneamente ti aiuta, ti aiuta in una piccola parte ma ti aiuta in qualcosa. Questo è il ristoro giuseppiano e non è il risarcimento. Infatti se voi guardate l'avvocato, quello ha studiato legge, quindi prima di parlare ha pensato bene, ma che brutta parola con questo ristoro, perché continua a insistere con il ristoro? Continua a insistere perché la parola che lui ha scelto in caso di denunce diceva io parlo di ristoro, non parlo di risarcimento, perché un altro avvocato in giudizio potrebbe dire ah, lei ha parlato di risarcimento e questo non è un risarcimento. Infatti lui, conte, parla di ristori e non di risarcimenti. Intanto, oppure si può parlare io risarcisco il danno all'80%, ad esempio un'assicurazione può dirvi, non è che vi dice io ti ristoro il danno all'80%, il ristoro è un qualcosa che decide chi vuole darti il ristoro, non chi lo riceve. Ecco, quando voi ristorate il viandante allegro, ecco, il viandante che passa e voi lo ristorate con un piatto di pasta, quello dice ma io sono abituato a mangiarne tre, eh questo passa il convento, io ti ristoro con un piatto di pasta, che vuoi? Tre piatti di pasta, non ce li ho. Questo passa al convento. Quindi il ristoro è un qualcosa che decide chi dà il ristoro, non chi lo riceve. Mentre in un'agenzia per danni o qualcosa dice io ti risarcisco fino all'80% del danno, perché il risarcimento è la copertura del danno totale. Poi aggiunge Conte ha fallito sia come presidente del Consiglio che come avvocato, perché il risarcimento è stato indegno, sottolinea Caiata. Sì Caiata, ma come dicevo, l'avvocato che tu dici che ha fallito in realtà è stato un bel furbacchione, come dice, come dice, come si chiama, Pippo Baudo, Pippo, Pippo, l'ho inventato io, ho inventato. Come dice Pippo Baudo, attenzione che Conte è un furbo avvocato di provincia. Non è un avvocato che ha studiato un po' così, che è riuscito a prendere la laurea, poi è andato a lavorare come muratore. No, quello sa quello che dice. Infatti Caiata dice come avvocato ha fallito perché il risarcimento è stato indegno, ma infatti non si parla di risarcimento, ma di ristoro. Il capogruppo Lollobrigida osserva il governo a gravi responsabilità verso alcune categorie in particolare. L'Italia non è mai stata divisa in due come oggi, tra garantiti e non garantiti. Lo abbiamo denunciato pubblicamente, il governo dovrà rispondere di queste responsabilità in sede politica in Parlamento, ma anche in sede giudiziaria. Io credo che più che altro è una responsabilità politica, morale, ma giudiziaria non credo, non credo. Però questa è una mia opinione, non sono né un avvocato né un avvocatone. Quindi diciamo che sì, questa crisi ha creato diverse categorie, lavoratori di serie A, B e C. Lavoratori di serie A dipendente pubblico che ha addirittura risparmiato perché non è più dovuto uscire per andare a lavorare, è stato a casa, quindi ha risparmiato vacanze, ha risparmiato sulle scarpe, sul caffè, sul self-service, sul treno, sul taxi, su qualsiasi cosa ha risparmiato. Il lavoratore di categoria B è quello che ci ha perso, è quello che lavora nell'azienda privata, che è in cassa integrazione, che ha uno stipendio più basso. Nonostante anche lui non sia uscito o abbia risparmiato questo, il suo risparmio non equivale a comparare le perdite avute con la cassa integrazione. E poi c'è il lavoratore di serie C, l'autonomo, quello che ha la partita IVA, che gli hanno detto che ti arrangi, ti do un bonus, ti do qualche centinaio di euro e poi sono cavoli tuoi, ma io devo pagare l'affitto, affari tuoi. Ecco, lavoratori di categoria A, B e C. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.